Sì Io sto scappando con Edo 86 86 l'energia rimanente Inche io ho 108 Cambio nick secondo le energie Ma qua il wall del dungeon è cambiato C'è? Sì, guarda qua, vediamo se si possono prendere Qua sì C'è una specie di crypt Sono rimasto qua Sul fondale Sotto o da su Merda c'è un Che è morto Vorrei prendere sta crypt che c'è qua Vediamo se si può prendere Sì Sono in un posto strano C'è qua? Va che cassa Eh lo so che c'è la cassa No, c'è il mago sparmone No, c'è il mago sparmone No, cazzo Che parli sto mago de merda Sì qua con la cassa di là apri con le chiavi Vedi? Ah sì qua ci sono più tutte le casse Casse d'oro Bastarde Ma che d'oro Ma Ness che sta facendo ultimamente? Ness vuole provare a rubare le casse Senza aprirle Ma questo quadro ce l'abbiamo in parte questo d'alteschi Forse no Ma come ti si rompeva il muro e manco non mi ricordo più? Ho un martello? Forse si Mi pare che non ci riesco a un martello Che cazzo di micro è questo? Aiuto cazzo Nooooo Che knob Qualcuno prenda quel quadro Ness si riesce a prendere quel quadro